Ciao ragazze, vi ritrovate su Angela Biotrucco. In questo video vi voglio far vedere quella che è la mia collezione bikini. Alcuni li ho scartati perché si sono un po' invecchiati con l'utilizzo. Si allargano infatti gli elastici, mettendoli spesso, utilizzandoli comunque in acqua, tra il cloro e il sale dell'acqua del mare. Quindi li ho messi un po' così da parte. Ditemi qual è il vostro preferito, adesso vi farò una breve spilata con tutti i costumi che vedete adesso indossati. Ditemi qual è il vostro preferito nei commenti qui sotto e se vi piace più il mare o la piscina e per quale motivo. Io preferisco il mare perché mi piace nuotare insieme alle creature marine. Grazie. 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 Grazie.